Pettinari, siamo a poche ore dal Natale, però i problemi nelle periferie pescaresi continuano ad esserci. Lei vuole lanciare l'ennesimo grido d'allarme e soprattutto dire che quando si spengono gli riflettori tutto torna come prima. Sì, bravissimo. Io sono venuto oggi proprio perché sotto alle festività natalizie purtroppo gli acquerenti di droga aumentano. C'è molto più spaccio di droga e questi sono i territori dove purtroppo si spaccia droga e sono le centrali dello spaccio più preoccupanti. Quindi non parliamo solo di qui Fontanelle, Rancitelli, Via Rigopiano, Zanni, Sandonato, Borgo Marino. Ecco, tutte queste zone devono essere maggiormente attenzionate e torno a chiedere l'unità fissa H24 di Polizia nelle zone più calde. Qui solamente in questa via addirittura ci sono, ho fatto una ricognizione, 21 occupanti abusivi ancora. 21 occupanti abusivi in una sola via, 180 in tutta la provincia di Pescara. Quindi c'è ancora tanto da fare e devono ripartire gli sfratti, a mio avviso. Poi c'è un problema serissimo purtroppo che ho scoperto nel DEFRE di Regione Abruzzo, il documento di economia e finanza, che si sono approvati la revisione dei canoni sociali. Che cosa vuol dire? Che loro per recuperare soldi prevedono, perché io così lo leggo, un aumento dei canoni sociali ai case popolari. Ma chi già lo paga? Cioè non bisogna andare a colpire le persone oneste che già pagano il canone. Ma chi non paga? Qui ci sono persone che da dieci anni non pagano, che sono morosi, che non hanno mai pagato un euro. Questa è una cosa vergognosa che non si può concepire. Poi mi lasci dire, è di queste ore la notizia che hanno impugnato la legge regionale sulle case popolari. Perché questo? Non è una valutazione politica, è una valutazione tecnica. Perché hanno sbagliato a scrivere la legge. Io l'ho detto più volte. Questa legge è scritta male. Hanno fatto delle discriminazioni. Sulle discriminazioni naturalmente entri in conflitto con la Corte Costituzionale e te la impugnano. Noi dovevamo colpire esclusivamente i delinquenti, i criminali, tutti coloro che delinquevano all'interno delle case popolari. Se scriveva bene, come dicevo io, la legge non veniva impugnata. Questo è un qualcosa che grida vendetta. E poi in questi territori dove noi siamo si continuano a vedere persone che magari non pagano l'affitto, spacciano droga dentro casa e tengono sotto la macchina parcheggiata di 70 mila euro. Io queste cose non le voglio vedere più. Io continuerò a combattere a testa alta e con la schiena dritta sotto casa degli spacciatori a dire colpiamo, colpiamo, colpiamo con forza questa gente solo a tutela dei cittadini onesti che si alzano una mattina e si spaccano la schiena.